E cambiamo argomento, incidente tra due automobili questa notte intorno all'una a Clusone in via Europa nel tratto di strada tra le due rotatorie delle fiorine. Una cameriera del SELS, una ragazza di 26 anni dopo il turno di lavoro con l'automobile stava andando a casa diretta verso l'abitazione di Vertova quando si è verificato lo scontro con una jeep che viaggiava nel senso opposto di marcia guidata da un 24enne. Entrambi i conducenti, feriti ma non gravi, sono stati portati presso il pronto soccorso dell'ospedale Antonio Locatelli di Piario.